Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Giornata con tempo prevalentemente uggioso su tutta la penisola, con parziale maltempo sui settori occidentali. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 17 dicembre. Chioviggini sulla Liguria e molte nubi al mattino sui settori centrosettentrionali. Cieli poco nuvolosi sull'arco alpino e sulle regioni meridionali. Al pomeriggio cieli ancora coperti su gran parte della penisola, con pioviggini anche sul Lazio. Qualche apertura sulla Sardegna. In serata di nottata non sono previste variazioni di rilievo, con assenza di precipitazioni prevalenti ad eccezione di Liguria, Emilia e Lazio, dove si potranno verificare deboli piogge. Temperature minime in lieve aumento su tutta la nazione e massime complessivamente stazionarie o in incremento. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Medio. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.